Italia Viva fa il punto anche in Abruzzo dopo che il congresso nazionale eletto il presidente del partito unico candidato, il senatore Matteo Renzi. Si è definito un quadro unitario. Nelle quattro province risultano eletti alla presidenza Giancarlo Zappacossa per la provincia di Chieti, Luciano Monticelli per Teramo, Carmine Ciofani per Pescari e Luigi D'Alessandro per l'Aquila. Il presidente regionale Camillo D'Alessandro. Un congresso partecipato ma Italia Viva in Abruzzo. Pare oggi voler mostrare una direzione precisa che va ben oltre la data del 10 marzo 2024 delle regionali. Il patto per l'Abruzzo, la coalizione di centro-sinistra che sfiderà Marsiglio alle regionali ha avuto un percorso particolare per mettere tutto insieme, Italia Viva inclusa. Quale sarà il vostro impegno alle regionali? Noi daremo vita ad una lista dei riformisti abruzzesi, una lista dichiaratamente di centro che farà a mio giudizio la differenza in queste elezioni. C'è un elettorato mobile che guarda e vota di volta in volta da una parte e dall'altra. Noi credo che saremo quelli che saranno più in grado di incrociare questa attenzione. Questa sera si riunisce l'Assemblea Provinciale dei Democratici. Partono le trattative per il candidato sindaco. Il piano è costruire un'alleanza con i grillini, azione e le associazioni cittadine. Mi fa piacere che facciano le riunioni, noi non ci stiamo su quel tavolo. Del resto se PD e 5 Stelle pensano di fare gli accordi e comunicarcelo, facessero, non è accaduto a livello regionale, non accadrà a Pescara, non accadrà a livello comunale, non accadrà nelle province. Tra i nomi più gettonati c'è quello di Carlo Costantini. Gli faccio gli auguri, ma se il nome di Costantini è il frutto di un patto di pochi, saranno pochi a sostenerlo. Del resto a me sembra singolare che non si replichi il modello che ha portato alla costruzione di una coalizione larga in Abruzzo, anche perché non si vota solo a Pescara, si vota in tante altre realtà. E poi dobbiamo capire se funziona un progetto che replica quello che stiamo facendo in Abruzzo ovunque o un progetto a Pua, cioè un po' qua, un po' là. Per esempio ho letto ieri una notizia, spero non confermata, che azione sosterrà il sindaco della Lega Giulianova e che la stessa azione poi esprime il candidato sindaco a Pescara del centro-sinistra. Mi sembra un po' strano, ma ci sarà modo per parlarne.